Allora, buonasera a tutti. Io sono Sara Savian e con me c'è Matteo Testa. Siamo i due animatori, uno del Digital Fashion Night e del Milan Recording. Questa sera è una Combo Community Night, una serata in cui due community di WeMake si trovano e la Community Night che abbiamo pensato per questa serata sarà un po' come ai vecchi tempi, una community di scambio informale. Quindi con noi ci sono anche tanti altri maker e partecipanti che hanno deciso di condividere con noi questa oretta di tempo con tema della serata il magico mondo del design parametrico di Blender e come importare questo design all'interno anche di Cloud 3D per quello che è l'ambito della moda. Perfetto. Quindi inizio, faccio al volo un'introduzione che facciamo direi tormai tutte le volte per appunto per tutti quelli che si uniscono e che si aggiungono di volta in volta. Il Milan Recording è una Community Night, quindi in generale è quel classico momento di scambio che c'è in quasi tutti i Fab Lab del mondo riguardo ad un argomento. Per noi è nato intorno al codice creativo e quindi tutte quelle tecnologie che vengono usate in ambito industriale o commerciale ma possono anche essere usate per ragioni creative, di design, di arte, in qualsiasi modo vogliamo. e questo già da qualche anno ha portato poi alla creazione anche dell'associazione Codice Inutile con cui cerchiamo di portare avanti questi progetti anche nelle scuole, durante gli eventi, in diverse situazioni, sempre con lo spirito di fare un po' di creatività e un po' di diffusione di questo tipo di cultura che ne ha bisogno perché inizia ad essere sempre più visibile ma ci piace come incontro avere la possibilità di fare anche comunità, di fare un po' di rete e di fare persone che lo fanno. Quindi dopo questo incontro se ci venite a seguire sui vari social Facebook soprattutto ci ritrovate e potete partecipare anche voi. Correttissimo, idem anche per i digital fashionite io ogni tanto mi perdo queste cose fondamentali noi non abbiamo i nostri canali social perché abbiamo fondamentalmente una mutuazione più vicina al mondo di WeMake quindi seguiteci su WeMake e solitamente queste community night vengono condivise all'interno di Eventbrite che è dove la maggior parte di voi si sono iscritti appunto per poter partecipare e ricevere il link a Zoom. Speriamo in futuro prossimo di avere il canale più social di tutti che trovarci intorno a un tavolo lì da WeMake come abbiamo sempre fatto. Esatto, l'obiettivo è questo di ritrovarci in presenza veramente tutti insieme. Perfetto, nel frattempo stanno arrivando anche altri maker quindi questa serata come dicevamo sarà una serata registrata quindi saremo poi online su YouTube nelle prossime settimane per cui chi purtroppo non riesce a partecipare su Zoom potrà appunto rivederci in un secondo momento sul canale di WeMake. Ottima, quindi partiamo? Io direi di partire, esatto, questa serata sarà diciamo suddivisa tra le due community condivideremo i nostri schermi. Prima partirà Matteo con tutta la parte legata al mondo di Blender e sul design parametrico legato anche un po' al codice, giusto? Sì, in particolare parleremo di codice visuale e quindi introduco l'argomento giusto dicendo che sostanzialmente io ho ripreso mano Blender dopo qualche tempo che l'avevo usato un po' meno e sono stato molto contento di trovare un sacco di funzioni nuove, un sacco di avanzamenti che hanno reso Blender ancora più quello che è sempre stato, cioè un software che pur essendo gratuito ha la capacità di toccare tanti argomenti e di unire tanti ambiti diversi della progettazione 3D soprattutto ma in realtà anche essendo open source del lato più di sviluppo, del lato di game design, avere tanti aspetti. Nel fare questo mi è venuta l'idea, ho comunque iniziato a pensare all'idea per questa serata cioè all'applicare questo strumento, a provare io ad applicarlo alla moda digitale perché appunto mi sono sempre piaciute le simulazioni dei cloth e quindi ho provato i nuovi strumenti che ci sono per generare queste simulazioni di tessuti ed è capitato di parlare con Sara che da anni ormai fa tutto il discorso sui cartamodelli parametrici e ci è venuta voglia di cercare qualche punto un po' di incontro fra questi due mondi che sono quello della modellazione CAD, quindi tutta basata sulla precisione, sul cartamodello e su appunto la digitalizzazione del processo di distrattoria e questo mondo qua che invece è molto più sui videogiochi e sui poligoni ha una logica un po' diversa interna e mi piace molto il fatto che, come mi piace sempre nella vita quando si possono mescolare queste due cose, si possono prendere un po' i punti di forza di entrambi e in particolare la cosa che ha aggiunto Blender rispetto agli altri anni, insomma alle altre versioni è stata la possibilità di avere un sistema adesso magari apro, non fare il nuovo, vabbè comunque in ogni caso di avere un sistema nodi, del tutto simile a quello di Udini, a quello di Grasshopper e quindi ad altri tipi di software che sono sempre esistiti soprattutto nell'ambito dell'architettura, sono stati applicati nell'ambito del design invece nell'ambito delle arti diciamo più multimedia, creative così si verificava un po' meno, nel senso che è un po' meno come sistema di generazione di forme intendo perché si è sempre fatto invece, è sempre stato utilizzato per quanto riguarda il VJing come touch designer, VVV, sono sempre stati molto comuni come sistemi quindi giusto a titolo esemplificativo quello che possiamo fare è avere, come in tutti i programmi 3D generare una semplice forma, in questo caso un cubo e poi possiamo associare a questo cubo un sistema di nodi quindi come vedete qua abbiamo, in modo appunto, per chi lo conosce molto simile a un Grasshopper o a un touch designer un flusso che è fatto di nodi, quindi di questi blocchi di costruzione non riesco a ingrandirlo un po' e di questi fili che ci permettono di creare delle logiche delle logiche che seguono un principio di flusso quindi i dati entrano da qua, la geometria e il cubo che abbiamo qua ed escono dall'altra parte in quello che viene poi effettivamente renderizzato quello che possiamo fare sostanzialmente, per esempio cioè vedere la cosa più semplice in assoluto per il momento applicare una trasformazione quindi io posso selezionare un tipo di nodo c'è una libreria che al momento è abbastanza estesa già ma è in crescita perché appunto questo strumento è stato aggiunto in Blender circa l'anno scorso, se non ricordo male, un anno e mezzo fa e quindi una volta che ho aggiunto un nodo si può fare quello che si chiama Design Parametric cioè abbiamo associato dei numeri alla forma finale di questo oggetto e questo ci permette di cambiando i numeri vedere in diretta, in questa finestra, il cambiamento nell'oggetto questo è molto potente perché ci dà la possibilità di avere da questa parte un oggetto stabile una cosa che possiamo osservare, possiamo modificare con gli strumenti tradizionali del 3D poligonale e dall'altra parte abbiamo però sempre collegato un sistema di nodi che possiamo accendere, spegnere, modificare e con cui possiamo creare qualsiasi logica legata ai dati alle interazioni con altri oggetti molto comodo in Blender più di altri software avendo già tutta questa strumentazione per l'animazione già il fatto che posso animare tranquillamente queste funzioni quindi posso passare qua sopra, diventano gialli e ho un keyframe qua sotto e cambiarli e questa cosa è veramente molto comoda rispetto a tanti altri ambienti di programmazione pura direttamente da questi nodi come lo potrei fare dalle trasformazioni con la differenza che le trasformazioni non parametriche succedono e una volta che sono state applicate devono essere invertite per portare a tornare al punto di partenza invece qua posso semplicemente nascondere questo elemento e tornare alla sua forma originale questo è un po' il principio in generale e ora vi faccio vedere quello che ci siamo inventati per questa occasione che è stato appunto una partita da una riflessione su come si potevano unire queste potenzialità di Blender con il lavoro che faceva Sara sostanzialmente sulla modellazione di vestiti, di fashion in generale quindi e quindi ho pensato a tre concept di Orecchini Orecchini perché sono un capo di abbigliamento un accessorio molto semplice ma anche molto flessibile nel senso che possono essere fatti in tante forme a tanti materiali e quindi adesso spengo qualcuno e partiamo a vedere alcune cose in particolare che si possono fare per esempio questa è una forma è una forma triangolare abbastanza semplice adesso magari lo ingrandisco ancora un po' come se possiamo vedere è composto di poligoni è un solido che possono essere associati ai materiali che è sostanzialmente appunto un triangolo diviso in altri triangoli l'aspetto interessante è che in realtà quello che è in partenza è veramente un semplice triangolo, un piano quello che diventa quello che lo fa diventare in questo modo è questo sistema di nodi che ha due aspetti interessanti il primo è di avere all'inizio delle variabili tre, semplici, poche che vanno a influenzare la forma finale che otteniamo tutte insieme quindi noi abbiamo pochi come se fossero poche levette pochi manopole che ci permettono di di aggiustare direttamente la forma che abbiamo e questo è sia come dire questa è già una parte dell'aspetto creativo perché sviluppare questo sistema di nodi richiede molta sperimentazione e prove e vedere cosa succede spesso volentieri essere sorpresi dal risultato e decidere di andare per un collegamento per un altro in base a quello oppure possiamo vedere che ci permette al volo di vedere dalla forma base che è questo triangolo a una prima suddivisione a una seconda a una terza e tutto ciò seguendo una regola che possiamo stabilire nel dettaglio quindi sia come sono le forme sia come vengono suddivise sia come sono possiamo vedere qua per esempio sia quanto sono alte e smussate le punte e anche per esempio lavorare sulla su quanto sono affilati o smussati i profili questo è un aspetto abbastanza interessante secondo me perché permette di lavorare in un modo che applicato per esempio a tutto il discorso dell'artigianato digitale perché ci permette di lavorare in modo contrario in realtà come si è sempre fatto all'artigianato quindi lavorare un pezzo dall'inizio alla fine cercando di raffinare i dettagli andando avanti qua si può definire tutto all'inizio e modificare tutto il progetto tutto insieme perché in ogni secondo ne possiamo vedere il risultato questo concept è basato su un principio classico della computer grafica quindi del fatto di suddividere una forma semplice in più forme e per questo motivo è molto semplice passare da questo effetto geometrico più semplice a quello più a texture e adesso vi mostro anche un rendering al volo che ho fatto per dare anche conto di un'altra possibilità di Blender collegata a Chlor o ad altri sistemi CAD Blender ha un sistema di rendering interno completo quindi noi possiamo avere questi effetti fotorealistici direttamente dentro Blender che ha appunto avendo sia questo sistema di rendering in tempo reale che quello retraced quindi di tipo più fotografico ci dà la gamma completa dei materiali che possiamo realizzare cosa che normalmente i software di progettazione CAD non hanno hanno dei materiali più semplificati e basati su dei motori real time quindi quelli di videogiochi per capirci che oggigiorno sono molto avanzati ma come vedremo nell'esempio successivo hanno ancora dei grossi limiti in particolare sui materiali trasparenti che comunque nell'ambito dello sviluppo di un orecchino era sicuramente una cosa interessante da esplorare adesso apro il secondo concept il secondo concept va anche parte da un principio molto semplice che è la ripetizione di un modulo e l'aspetto interessante a parte il gioco con i materiali la possibilità di avere di avere appunto questa ripetizione con una logica che adesso vi mostro brevemente è un'altra potenzialità di Blender e quindi la possibilità di avere una modellazione poligonale e quindi di sviluppare dei scusa la camera di sviluppare tranquillamente con tutta la la calma come la chiarezza e la precisione anche che possiamo che possiamo applicare normalmente per sviluppare un personaggio per l'animazione o qualcosa del genere ci permette di andare molto nel dettaglio per esempio io posso selezionare selezionare ogni singolo poligono e muoverlo come mi piace a piacimento e modellarlo nel dettaglio cosa che di solito è molto più difficile da fare con qualsiasi linguaggio di programmazione o piattaforma che permette abbiamo citato touch design e cose del genere normalmente si limitano o a real engine sul lato game engine si limitano a prendere dei modelli già sviluppati e importarli e questo complica un po' le procedure ci sono delle cose che snelliscono il processo ma quello è in questo caso invece abbiamo la possibilità di fare le due cose insieme quindi noi possiamo modellare con calma un modulo di qualsiasi tipo adesso mi sono inventato queste due forme qua e possiamo però associare questo per esempio a questa forma che ha a sua volta un sistema di nodi questo semplicemente ci dà due possibilità rispetto a come è stato sviluppato questo orecchino e quindi la possibilità di avere da un lato un modulo definito mettiamo un'altra visualizzazione che è più chiara da un lato ci dà la possibilità di avere un modulo che possiamo modificare in qualsiasi momento quindi semplicemente invece che dover modificare ciascun poligono come farei in un altro tipo di sistema vedo la view bloccata ok io posso venire qua e decidere di modificarlo in qualsiasi in qualsiasi modo adesso ho specchiato questo ok un secondo che sta ok non so se ha perso dei frame lo streaming ma stava ok ragando un attimo comunque ho modificato leggermente la scala di questo di questo elemento facendolo diventare più schiacciato e in automatico si sono aggiornati tutti i singoli elementi qua dentro c'è un nuovo ospite che ci segue tranquillo Matteo gestisco io le omissioni eh sì ho visto al volo e quindi il modo in cui però questi elementi che appunto abbiamo modellato indipendentemente possono essere gestiti è associandolo ad un altro elemento che è questa curva che ho disegnato più o meno a caso seguendo una forma spirale il risultato è che io posso unire questi due elementi e fare di quello che può essere appunto considerato più manuale quindi una modellazione di una curva disegnata a mano e la modellazione di un solido unirli tramite una logica e in questo caso permette di per esempio stabilire stabilire la dimensione dei moduli come si dispongono qual è la curva su cui si dispongono semplicemente senza doverli ridisporre ogni volta a ruotare e posizionare semplicemente grazie a questo sistema che tanto per andare un pelo più nel dettaglio di quello di prima consiste nel sostanzialmente utilizzare questo sistema di istanze sui punti quindi viene selezionata una curva qua si indica la curva che selezionando l'elemento che abbiamo mostrato prima che è la semplice linea si trasforma la curva nei punti che la corrispondono si sceglie di usare 12 piuttosto che 5 si ridispongono al volo perché viene suddivisa in 5 o 12 parti o quelle che sono in automatico questi punti diventano le origini delle istanze che abbiamo selezionato qua e questo è l'oggetto modulo che ho modellato prima facendo questo sistema mi ha permesso di studiarlo una volta sola come vedete in realtà può fare l'impressione se uno non è particolarmente familiare ma è abbastanza semplice perché questa parte qua sopra appunto è la suddivisione della curva il posizionamento degli elementi e questa qua sotto serve semplicemente a segnare i materiali e a cambiare un pochino la scala dicevo però fatto questo in realtà è lo stesso esatto sistema io ho selezionato l'ho copiato e ho cambiato il modulo che viene associato semplicemente sono andato qua e gli ho detto che non volevo più quella specie di cosa è con le braccia e volevo invece queste specie di scagliette di vetro oppure questa altra specie di di giù di gioiello e a sua volta anche lì il materiale può essere cambiato qua dentro e ogni cosa che viene assegnata qua dentro può essere fatta anche in modo animato o programmatico se uno avesse qualche dato che volesse visualizzare scegliendo un modulo piuttosto che un altro può diventare come tante di queste cose anche uno strumento di data visualization tra virgolette più o meno e l'aspetto che mi interessava l'ultima cosa da dire su questo concept appunto è che ho provato a giocare un po' con queste trasparenze e tanto per rendere la cosa palese questo è un primo render questo è un render fatto con il motore in real time quindi con un motore di rendering simile a quello che ha Clore nella sua interfaccia come vediamo rende abbastanza bene tutto sommato i materiali ma tutti questi elementi che sono trasparenti da cui ci aspettiamo la trasparenza la rifrazione della luce lo scintillio sul bordo il fatto che la luce passando attraverso rifletta le caustiche sulle superfici che ci sono dietro non esistono non vengono proprio rilevati possiamo renderli trasparenti nel senso di far intravedere un po' il fondo ma non abbiamo lo stesso risultato che abbiamo qua invece che è il motore di rendering cycles che si basa sull'ray tracing quindi come vedete ha tutte le riflessioni di queste faccette appunto questi sono si intravedono le caustiche quindi le figure che fa la luce quando attraversa un mezzo trasparente sfaccettato e riflette su qualcos'altro che sono tutte caratteristiche molto avanzate che hanno i motori di ray tracing e che ancora oggi i motori di real time non hanno nello stesso modo e questo qual è il punto principale che permette di visualizzare una forma nell'ambito del design ma soprattutto permette anche in modo ragionevolmente con una qualità abbastanza alta di visualizzarle di poterle proporre e di far vedere quale potrebbe essere già il risultato finale in una fase in realtà anche preliminare del design ok allora apro il terzo come siamo con i tempi Sara va benissimo sì 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 dai va bene ovviamente e viceversa se sto correndo salto qualche passaggio che volete approfondire chiedete pure adesso arriviamo al terzo che era il mio quello che mi incuriosiva di più che viene da una un'ispirazione che mi ha dato che mi ha dato Sara che è oltretutto quello che utilizzerò che ho utilizzato e vedremo poi all'interno di Clo quindi perfetto e quindi il punto di partenza è stato allora adesso spostiamo un attimo la vista ok il punto di partenza è stato cercare di realizzare qualcosa del genere quindi le classiche cose che chi ha lavorato nell'architettura nel design spesso associa al termine generativo per qualche ragione sono rimaste nella storia abbastanza famose e diffuse tutte queste forme che se posso azzardare un'ipotesi direi che derivano dal fatto di come dire all'applicazione molto interessante del design generativo in architettura che è la riduzione topografica quindi il fatto di avere di determinare una forma semplice e poi di impostare dei parametri come l'uso del minimo materiale essenziale oppure il fatto di dover essere di una certa resistenza in un certo contesto ci dà poi la possibilità con quegli algoritmi di definire delle forme che sono molto efficienti per quanto molto strane rispetto a quelle che siamo abituati a vedere e che ricordano molto spesso i coralli piuttosto che le forme delle ossa appunto tutti questi queste forme che la natura ha già ottimizzato da sola facendo il suo lavoro di ingegneria degli animali o delle piante nel caso questo esempio è stato fatto con gli strumenti base di blender in realtà e l'ho tenuto giusto per far vedere che in realtà quello che andiamo a fare con i nodi è più nemmeno quello che si fa con gli strumenti di base con i pulsanti e con il mouse ma appunto come permettono di fare i nodi permettono di automatizzare questo processo e quindi invece di dover impostare gli strumenti uno a uno per ogni prodotto che voglio modellare possiamo partire da questo e quindi si parte da un cilindro poi posso andare a spostare e modellare come voglio i suoi poligoni adesso selezionare un poligone e decidere di spostarlo così uscire e attivare l'effetto che lo smussa e lo smusso è banalmente quello che si usa un po' in generale modellazione per ottenere come possiamo vedere un maggior numero di poligoni inizialmente i poligoni vengono ripetuti lo si può fare in modo da conservare gli spigoli se è effettivamente quello che ci interessa possiamo invece appunto aumentarli in modo da smussare la superficie e vediamo in questo caso tutti gli spigoli che si producono producendo quindi anche dei modelli abbastanza pesanti che devono essere poi eventualmente ottimizzati ma che hanno queste caratteristiche molto particolari e di solito molto piacevoli anche se un po' da gestire l'applicazione di questa il passo successivo è stato quello di provare a prendere delle altre forme e ripetere lo stesso tipo di effetto solamente con i nodi quindi sostanzialmente ho preso in questo caso un icosaedro che tanto per ricordarcelo è questa forma geometrica qua no un icosaedro una icosphere quindi una sfera formata solo di triangoli nota in architettura per essere molto robusta e molto particolare e ha questo aspetto da sfera low poly o una gemma l'ho ridotta un po' ho preso appunto quello che è un icosaedro questa forma qua di triangoli un po' più semplice e quello che abbiamo che possiamo vedere di qua riattivando l'editor dei nodi questo no mi sa che l'altra l'altra collezione ecco su questo qua vedo vedo che anche tu Matteo hai una passione per layers e sovrapposizioni di cose questo file è stato è stato organizzato in realtà per fare poi il rendering che vi faccio vedere fra un attimo per cui ha tutto c'è un po' il set intorno se sto recuperando le allora quello dei due infatti questo qua è il il set ah sì qua c'erano degli altri esperimenti un po' più come dire non andati particolarmente a buon fine secondo me mettiamola così con la divisione dei punti che sono tutte strade che si possono appunto verificare e tanto per dare prova di quello che dicevo prima cioè del fatto che si può partire da una forma semplice e sperimentare in qualsiasi modo anche un po' caotico venga fuori sono uscite queste forme dopo aver fatto un po' di prove e semplicemente mi ha permesso di provare a esplorare questa strada senza giungere a una conclusione soddisfacente ma essendo sicuro in so mezz'oretta che tutte le opzioni che derivavano dal dividere una superficie in tanti poligoni in vari modi e sottrarre dei punti a caso davvero effettivamente qualcosa che magari può essere efficace in un gioco se un oggetto si deforma una pergamina si brucia qualsiasi cosa del genere ma non mi sembrava tanto appropriato venivano un po' queste specie di patatine fritte un po' fragili sono le famose patatine di cui mi hai inviato un'immagine fotografica recentemente è capitato quando si dice che il disegno generativo prende ispirazione della realtà in quel caso erano delle patatine erano effettivamente delle patatine bucarellate che erano molto simili ma le ho viste dopo allora adesso faccio una digressione per chi è entrato in questo momento perdonami Matteo stiamo facendo una presentazione diciamo frontale e registrata quindi se avete delle domande inerenti fatevi avanti lo dico a tutti quanti altrimenti insomma procediamo quindi basta mi taccio perfetto nel frattempo ho recuperato proprio l'esempio che volevo farvi vedere perché appunto per le ragioni per cui dicevo prima abbiamo la possibilità di mescolare tanti workflow diversi e questo fa sì che in questo primo caso in questo esempio qua ho fatto quello che dicevo quindi di avere una modellazione basata sui nodi dopodiché per lavorare meglio per fare quel piccolo set fotografico che vi faccio vedere dopo sono andato l'ho trasformata da un sistema di nodi quindi a questa possibilità di modificare in real time a un oggetto normale per poterlo poi modificare in altri modi successivi quindi quello che vediamo è che anche un esempio di come Blender secondo me risolve bene questo problema dell'integrare una logica che è quella dei nodi e un'altra logica classica del 3D che è quella dei modificatori quindi di questi strumenti che si aggiungono uno sopra l'altro e rappresentano un po' delle fasi di lavorazione se fosse un oggetto industriale semplicemente lo risolve considerando questo sistema di nodi come uno dei modificatori quindi ne abbiamo un oggetto che in origine era questo e possiamo ricostruire tutti i passaggi si vede quella forma che dicevo possiamo ricostruire tutti i passaggi quindi prima di tutto l'inserimento del sistema nodi che consiste nella creazione di un cono di cui abbassiamo un po' le facce per cui diventa più una specie di prisma di piramide troncata le facce vengono suddivise questo è il sistema che dicevo prima che appunto smussa le superfici aumentando il numero di poligoni ho utilizzato questo nodo che sostanzialmente genera una texture noise quindi una specie di nuvola bianca e nera per stabilire in modo un po' più organico un po' più fluido come venivano sviluppati i fori in modo simile a una delle reference che abbiamo usato che è Nervous System che ha questo configuratore online in cui puoi sviluppare l'anello e l'orecchino cliccando tu su i fori o comunque le regolarità che vuoi ottenere in questo caso l'ho voluto fare in automatica quindi le veci dell'utente che clicca sull'oggetto le fa questa texture che appunto è una texture classica che viene usata per avere un segnale un input che sia molto vario anche se non completamente randomico quindi per non avere un buco gigante e basta o mille bucchi finissimi in questo caso diventano un po' più morbidi e vengono filtrati in vari modi che sono in realtà matematiche abbastanza di base maggiore o minore o filtri if qua ci sono come vedete come dicevo prima delle prove e questo è una cosa che si può fare semplicemente collegare varie cose e poi decidere ho provato questo voglio provare a collegare quest'altro elemento che cambia come si distribuiscono le scale e ci permette di arrivare a questa forma qua quindi un cono a cui sono state tolte alcune facce che è stato smussato in un certo modo e che appunto è già più simile a quello che volevo ottenere tanto per fare un esempio se io invece collego questo in diretta lo vedo con un livello di dettaglio molto più fine perché le facce sono state estruse in un modo sostanzialmente prendendo a prestito la tecnica che avevo usato all'inizio era il triangolo in cui le facce venivano spezzettate e estruse una per volta ho provato questa strada poi mi è sembrato più interessante proseguire con la forma più semplice e andare avanti con i modificatori quindi prima di tutto trasformarla in wireframe abbiamo questa specie di reticolo come se fosse la struttura interna e invece di usare le facce usare quindi la struttura di base come l'avevo modificata prima per renderla più solida e poi via via più fluida e alla fine anche per decimare un po' i poligoni perché poi questi procedimenti sono semplici da visualizzare funzionano molto bene sui nostri computer al giorno d'oggi ma in realtà producono un sacco di poligoni e quindi se io devo fare poi un rendering o metterli in un videogioco o passare via Valentina per metterli in claw sarà meglio che non gli passi un modello con 3 milioni di poligoni che è appropriato per una macchina per un film della Marvel ma non tanto per noi cosa che come vediamo riduce la qualità ma non in modo particolarmente riconoscibile se si parla di un orecchino all'interno di una fotografia e questo l'ho fatto sia per questo sostanzialmente lo stesso algoritmo applicato a due a due forme una è questo cono l'altra è la sfera che vedevamo prima e l'ultima sperimentazione che ho fatto appunto partendo da queste da queste forme è stato ah beh vi faccio vedere il set un secondo e che sostanzialmente è un altro aspetto che appunto a me piace molto accendiamo un po' di cose qua ci sono varie varie prove essendo un programma di 3D in realtà non costa niente anzi è proprio il suo lavoro quello di realizzare delle immagini fotorealistiche in questo caso abbiamo questo qua è il motore di rendering in tempo reale che come dicevo ha fatto dei dei passi da gigante in realtà e che permette appunto di vedere in tempo reale la resa dei materiali con i quali mi sono divertito a giocare appunto su uno di quei due aspetti che dicevo prima il fatto che un software di 3D tradizionale tra virgolette ha al suo interno tutta una serie di strumenti per lo sviluppo dei materiali fotorealistici e quindi in realtà è un sistema abbastanza semplice ma ho potuto giocare su questa appunto questa cosa che mi piaceva un po' di di contaminazione di avere delle forme fluide così in cui i materiali si mescolano e si parte da questo lucido e si va verso un materiale più opaco con questa specie di texture sopra che vediamo poi meglio come si può vedere già di per sé penso che ancora nel 2022 sia soffrefacente perché si occupa di queste cose avere questo tipo di risultato e poterlo muovere liberamente poter cambiare la posizione di una luce senza doversi inventare qualche particolare trucco in post-produzione in Photoshop o quello che è e questo già di per sé è il motore di rendering come dicevo è molto veloce ma ha la qualità inferiore usando quello usando Cycles vi faccio vedere un po' tutte le immagini così vi vedete anche le prove questo è come si vede con il motore di rendering in tempo reale quindi vediamo che la resa è abbastanza buona ci sono spero che si riesca a notare un po' fine ma per esempio possiamo vedere questa parte nera qua dietro è un po' piatta anche questa zona qua sotto è illuminata ma è illuminata in modo che in modo approssimato se ne vediamo invece queste sono delle altre prove con degli altri materiali questi sono i passaggi questo è il materiale di base un po' satinato questo è il doppio qua li ho posizionati meglio secondo la luce e questo è il risultato invece con il motore di rendering Cycles e quindi vediamo la differenza fra questa zona qua sotto che ha molte più variazioni qua è più scuro qua è più chiaro qua si diffonde meglio e soprattutto questa parte dietro che riporta in modo più preciso le ombre queste braccia queste ramificazioni che ci sono sto sempre per dire che se chiaramente uno deve fare un rendering di un orecchino su un personaggio dentro una scena una sfilata è troppo ma se uno vuole fare questo lavoro qua più da catalogo un motore di rendering real time non è ancora esatto al 100% di quello che fanno gli altri normalmente in più sì non so se ho ecco e poi ho fatto anche questa macro che è un rendering molto più ingrandito appunto per far vedere questo aspetto qua che noi abbiamo possiamo giocare con le texture possiamo andare molto più nel dettaglio perché appunto c'è un motore di rendering che si prende il suo tempo e ci metteva circa 2-3 minuti a sviluppare queste immagini ma ha molto più potenzialità degli altri e questo ci dà la possibilità anche un po' che da qui nata lì della gem session di giocare all'andata e ritorno con questi software quindi usare il software di progettazione e quelli di visualizzazione e poi magari tornare indietro aver visualizzato qualcosa e essere in modo che ci viene in mente l'idea per modificare il progetto della forma e poi visualizzarla di nuovo tutto ma manca il ritorno in realtà perché poi adesso vi faremo vedere come è l'andata cioè vi abbiamo fatto vedere l'andata e come questa progettazione e poi l'ho in maniera abbastanza semplice potuta importare all'interno di di clou 3D e è anche il risultato finale del render la domanda che forse anche alcuni hanno in mente è quella di è possibile avere lo stesso render anche con un capo realizzato in clou importato in blender oppure no? La domanda cioè dobbiamo approfondire da un po' nel senso che allora in blender è sicuramente possibile avere dei tessuti così come delle pellicce così come tutti questi strumenti sono stati sviluppati da tempo nel senso che è stato applicato per realizzare dei film e anche per il settore effetti speciali quindi il fotorealismo e la funzionalità su quelle cose c'è già il passaggio diretto tra clou e blender che noi sappiamo al momento non è stato sviluppato come per altri software con un comodo plug-in che uno lo installa e in automatico fa il passaggio è possibile di per sé nel senso che abbiamo provato a importare le cose che l'export di blender tramite il formato fbx che è fatto apposta per gestire questi passaggi in modo più o meno indolore però abbiamo anche visto che non era completamente automatico e quindi abbiamo provato invece a portare il risultato di blender e quindi i modelli parametrici convertirli in un modello tradizionale e portarlo dentro clou però secondo me c'è la possibilità di farlo e chiaramente sarebbe interessante portare tutto il modello oppure semplicemente portare la stoffa o il progetto del vestito e utilizzare direttamente dentro blender il personaggio anche perché abbiamo visto nei frame iniziali che ci hai mostrato che in realtà c'è anche il modo di utilizzare il cloth per realizzare dei capi direttamente dentro blender quindi sicuramente ci sono delle funzionalità similari nei due software immagino che importando le curve del disegno CAD fatto con precisione da qualcuno che si occupa di modelli parametrici per la moda possiamo tirare fuori le superfici e poi usare la simulazione cloth per vestirla su un personaggio poi quanto di precisione si può andare non so dirlo perché non sono un sarto purtroppo però è neanche un è neanche un santo un sarto e un modellatore tra di loro lo stesso tavolo per fare queste cose perché dopo un po' il fatto che gli strumenti permettano di mescolare le competenze è molto interessante ma ci vogliono anche tutto un background dietro che poi gli specialisti come dire richiedono e hanno ed è il bello poi di fare questo tipo di progetti avere persone diverse che sono degli specialisti di quello e dobbiamo proporla Luca a lavoro che dici? anche abbiamo anche la Flavia qua che anche lei ne ha di competenza Luca Flavia sì 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 allora facciamo un'altra jam session una volta di persona beh sì la dobbiamo invitare dalla Sicilia però sì volentieri andiamo in Sicilia ci sto ci sto volentieri molto interessante certo sarebbe carino anche sperimentare un po' come si possono connettere i due software però è molto bello quello che ho visto finora cioè wow dovreste fare anche un corso di Blender va Natale vediamo adesso cerchiamo di capire infatti in realtà quasi tutti i corsi no non è vero però diciamo che parte della formazione nasce anche dalla sperimentazione e dello scambio di competenze quindi sicuramente questo è anche un momento per noi per capire come funzionano i software tra di loro quindi sì vediamo magari concludo con la parte digital fashion della serata che cercherò di stringere un po' perché sono quasi le 8 quindi vado a condividervi lo schermo perfetto dovreste vedere questo agglomerato di immagini fotografiche in realtà la prima ovvero lei l'ho tirata fuori perché era un po' il nostro concept ed è un orecchino strutturato di Givenchy degli anni 80 quindi insomma diciamo queste strutture non sono nuove ecco però le possiamo utilizzare anche in maniera diversa come ci ha mostrato Matteo poi abbiamo c'è una schermata del rendering che ho fatto con l'orecchino che mi ha condiviso per l'appunto Matteo e il render finale quindi siccome non ci sarà tempo per mostrarvi il il risultato ovviamente per fare il render live vi ho fatto comunque uno screenshot e devo dire che il risultato è piuttosto interessante ma vediamo un attimo come si fa ad aggiungere questo benedetto orecchino perché non è così semplice come sembra forse in Clo non c'è niente che è semplice come sembra però insomma è anche il suo il suo fascino e vabbè questa è l'interfaccia di Clo per chi fosse le prime armi è un software che unisce sia la modellazione 2D che la modellazione 3D in un unico ambiente di lavoro l'avatar che vedete ha vestito in maniera un po' forse da ah guardate c'è anche un orecchino che vola qua scusate eliminiamolo ecco dove era finito ogni tanto va bene e in realtà all'interno di questo di questo ambiente di lavoro quindi già con l'avatar e con l'avatar vestito sono andata ad applicare l'orecchino che verrà importato quindi da blender all'interno di Clo 3D sotto forma di trim che cosa significa significa che è come se fosse una spilla un bottone uno di questi oggetti qua quindi quando noi andiamo dentro a hardware and trims vedete abbiamo delle cartelle già che sono degli OBJ quindi sono degli oggetti tridimensionali che noi possiamo importare e aggiungere esattamente come è stato fatto per i bottoni che sono presenti su questa camicia ogni volta che noi aggiungiamo un trim però lo dobbiamo andare a incollare su un pezzo di tessuto perché altrimenti l'oggetto tridimensionale una volta attivata la simulazione tenderà a cadere con la forza di gravità quindi la simulazione che noi attiviamo ci permette ovviamente di avere la vestibilità come cade il capo sull'avatar cose che magari sembrano sciocche però il nostro orecchino in realtà vivrà lo stesso tema quindi tenderà a muoversi e a voler cadere devo dire che c'è veramente poca come si può dire si trovano veramente pochissimi tutorial su questo tema e spesso gli oggetti non sono oggetti importati ma sono oggetti realizzati all'interno di 3D quindi è possibile creare anche degli oggetti tridimensionali quello che ho trovato più utile più interessante da inserire all'interno e da mostrarvi questa sera è quello che prevede il disegno e l'applicazione di un piccolissimo pezzo di tessuto quindi questo piccolo triangolo che ho realizzato qua e che adesso stopperò un attimo la la simulazione ok quindi andiamo a spostare con il ghismo il nostro orecchino e questo pezzo di tessuto l'abbiamo fondamentalmente pinnato quindi l'abbiamo messo un pin direttamente sul nostro avatar per far sì che rimanga collegato all'avatar stesso quindi questo è proprio il metodo base a questo punto il nostro trim lo andremo proprio a incollare con questa diciamo un portiglietto di colla esatto proprio vedete come viene traslato sul nostro orecchio e lo incolleremo sul sul tessuto che abbiamo appena realizzato possiamo ovviamente andare a spostarlo più vicino sempre con il nostro bismo e tenderà sempre a essere insomma a rimanere collegato all'avatar anche in fase di di movimento o di simulazione insomma in questo modo l'abbiamo applicato vediamo come si fa a importarlo che mi sembra forse una delle cose più interessanti anche visto che questo l'abbiamo già visto importato si va a importare ed aggiungere il nostro obj non al garment ovviamente viene automatico pensare di aggiungerlo al capo d'abbigliamento perché bisogna collegarlo appunto a un pezzettino di tessuto ma lo importiamo come obj aiuto ho troppe cartelle come al solito eccola qua a questo punto vado dentro earrings ah no l'fbx hai ragione scusami forse ero partita da qua no annulla importa aggiungere l'fbx hai ragione fatto un po' di prova perché a un certo punto il meme con i file definitivo diventa proprio uno stile di vita quindi sono direttamente numeri di versione 1 2 3 4 esatto quindi questi fbx hanno proprio questo formato particolare che è un po' diverso da quelli che abbiamo appena concluso un percorso su come creare umanoidi quindi insomma ci sono diversi tipi ecco la cosa importante è importarlo come trim quindi aggiungi trim a questo punto gli manteniamo la dimensione in scala in millimetri se non vado errato vedendo che sia uno di quei file con la scala giusta non mi dire così gli diamo ok vediamo se viene fuori una cosa enorme vediamo eccolo qua no dovrebbe essere corretto andiamo a spostarci nello spazio sempre utilizzando il gizmo perché sennò diventiamo pazzi il gizmo è il nostro migliore amico in ambito 3D in qualsiasi software ok e poi lo andiamo a portare ovviamente nei pressi della del nostro avatar manca solamente vediamo se c'è è molto piccolo questo effettivamente proviamo a ingrandirlo un po' non me lo fa ingrandire per quale motivo ok lo stiamo facendo ingrandire però solo su una sepa e volta infatti allora vabbè lasciamo perdere questo dal grigio dal centro quindi sempre questo strumento vediamo ok va bene l'abbiamo ingrandito in realtà probabilmente c'è una versione che è quella nell'altro orecchio che funziona meglio ovviamente andiamo a posizionarlo nei pressi dell'orecchio a questo punto viene semplice duplicare il nostro triangolino possiamo fare un cerchio non lo so io ho fatto un triangolo in ogni caso è visibile quel pezzo di stoffa abbiamo abbassato esatto questa è una delle caratteristiche infatti che abbiamo tolto l'opacità dal materiale di riferimento quindi dovrebbe avere il materiale default for simulation che io ho definito e che avrà una una caratteristica di opacità come si vede in questo punto qua di pari a 12 quindi è semitrasparente adesso andiamo a vedere dove l'ha posizionato quindi lo selezioniamo con la parte corretta andiamo a collegarlo al nostro orecchio quindi con lo strumento TAC on avatar lo lo selezioniamo e lo andiamo ad applicare al nostro orecchio quindi simulandolo lo andrà a collegare all'avatar adesso esplode ufficialmente il computer dopo una giornata di di clou e a questo punto possiamo andare a collegare spegniti sesamo ok possiamo andare a collegare il nostro orecchino dall'altra parte quindi sull'altro orecchio ho fatto partire la simulazione nel frattempo WeMake è calata la tenebra non so se si nota per la simulazione sì adesso ho chiesto alla regia di andare ad accendermi una luce ok avendo a disposizione tutto questo sistema di simulazioni dentro il clou sarebbe stato cioè sarebbe carino a provare anche appunto qualche giurello che abbia un po' più direzione che ne so una collana o qualcosa assolutamente sì qualcosa che pende in qualche modo volevo provare a farvi vedere nel render il risultato sempre che si riesca quindi faccio render interattivo a questo punto dovrebbe partire una simulazione di render che ovviamente impegnerà molto della mia cpu è molto lento il render legato a clou quindi effettivamente magari Matteo mi dici che il render è un pochino più prestante da questo punto di vista il render ha la scelta nel senso ha un motore di realtà molto buono che è molto veloce ed è abbastanza buono ma di quel tipo lì oppure ha quello più lento per la qualità molto più alta quindi adesso vi vi faccio vedere il risultato di qua questo perfetto io in realtà ho dimenticato ovviamente di attivare in realtà il render interattivo che dice giustamente di cui parla Matteo c'è anche in clou ed è il primo tastino in alto nella sezione 3D ci permette di avere una visione un pochino più realistica rispetto a prima e nel frattempo nella parte a destra vediamo il render che va sviluppandosi io nel frattempo sono diventata un alieno molto bene che senso è la luce e basta questo è quanto ovviamente poi si può utilizzare blender anche nella realizzazione di molto altro io adesso magari ecco sono le ore 8 magari prima di passarti la palla Matteo per l'ultima parte visto che non l'ho fatto in apertura e se ancora qualcuno è con noi vabbè vi invito in ritardo come al solito sempre che il mio computer decida di collaborare ok a seguirci come sempre sul nostro sito wemake.cc dove trovate tutti tutte le community night e tutte le informazioni su quello che combiniamo in questo scatolone pieno di digital fabrication e quant'altro che è wemake ovviamente la sezione community è centrale trovate l'arduino user group che solitamente è il primo martedì del mese digital fashion night scusatemi viceversa la digital fashion night è il primo martedì del mese l'arduino user group è il terzo e il milano live coding come abbiamo detto precedentemente che è la seconda il secondo martedì e che ci ospita effettivamente questo mese in questa combo quindi wemake.cc basta quindi vediamo che qua si sta un pochino alla volta strutturando e vorrei porre l'attenzione su una cosa fondamentale forse Matteo che non si notava precedentemente ma che mentre nell'orecchino di destra quello che ho curato prima della della gem session ho aggiunto un'informazione di materiale quindi ho dovuto aggiungere l'informazione del metallo in quello che abbiamo appena posizionato non c'è questa informazione quindi risulta meno luminoso è una una texture diversa c'è anche questo una cosa che si potrebbe fare al riguardo è avendo deciso per tempo i materiali avendoli studiati in blender se come capita per esempio in a real engine con cui ho un po' più di familiarità è che uno sviluppa i materiali magari anche sulla base di scansioni fotografiche che sono portano tutto su un altro livello dentro blender e poi esporta delle texture in modo da poter ricreare dei materiali anche dentro un motore di rendering un po' meno un po' meno articolato non so come dire giusto impacchettare più informazioni dentro delle texture che sono delle immagini semplici e così appunto sulla trasparenza sulla riflessione solito ci sono e infatti è quello che ci serve quando noi parliamo di queste cose in clove io ho cliccato sul tuo orecchino nella sezione materiale possiamo scegliere la tipologia quindi metallico ad esempio infatti vedi che è ripartito il render nuovamente il colore possiamo aggiungere una texture che è quella che dicevi tu adesso se invece seleziono per esempio l'avatar e andiamo a vedere il property editor vedi che nella sezione texture abbiamo proprio l'immagine della superficie dell'avatar e così vale anche per i vestiti e quant'altro quindi effettivamente questa sì Blender ha questa bufa caratteristica di cercare di fare tutto insieme che ogni tanto gli porta anche qualche critica nel senso che tante persone sono abituate ad avere singoli software molto specifici invece Blender da quando è nato cerca di essere un po' un coltellino svizzero e ha anche tutta una parte sul preferito del painting quindi uno potrebbe modellare scolpire ma anche dipingere queste texture volendo all'interno poi si può fare lì come in altri software però si potrebbe anche fare quel passaggio lì se uno avesse il caratter fatto in questo modo un importo in Blender nella texture vuole aggiungere un tatuaggio lo fa direttamente sulla texture della pelle quindi in Blender lo fa direttamente non è male ok io interrompo la condivisione nel frattempo che va ancora il mio rendering e ti lascio la palla io al volo volevo solo far vedere questo per rispondere davvero alla domanda che hanno fatto prima e cioè cosa succede se cerchiamo di importare clor dentro Blender succede una cosa del genere adesso vedete il mio schermo si lo vedete annebbiato sì ok allora adesso stavo visualizzando direttamente con quello che succede esportando da clor è che arriva direttamente il modello con il vestito già in posa in questo caso si potrebbe probabilmente provare anche a esportare non so le facce del tessuto provare a simularlo di qua ma se uno volesse appunto lavorare più sulla visualizzazione lo puoi fare direttamente nel senso che mette in posa comunque esporta tutto posizionato e simulato dentro il dentro clor adesso cosa succede qua che mi fa muovere ah sta pensando no ok ce l'ha fatta ok ci siamo si stava riposando un attimo giustamente il motivo per cui i capelli sono usciti così non mi ricordo se era un avatar che ne hai passato prima vi hai cambiato il colore di capelli probabilmente non mi ricordo però ho provato posizionare questa qua in realtà era una versione precedente dell'orecchino che non era fatta in modo parametrico ma ho provato a posizionarla direttamente qua e quindi vediamo che il risultato è di questo tipo vediamo il modello le scarpe che poi appunto i materiali poi andrebbero sistemati ad hoc perché visto che alcune test erano un po' erano fatte con una logica un po' diversa ma niente di complesso o di lungo la resa mi sembra abbastanza buona quello che succede è che appunto quello che arriva di qua essendo frutto di una simulazione ha comunque molti 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 poligoni e quindi come vediamo questo sembra grigio scuro in realtà dovrebbe essere una griglia di poligoni e quindi quello che vediamo è che appunto si potrebbe anche ottimizzare volendo in Blender mentre da cosa ho visto in Clow il controllo che si ha è giusto il numero di poligoni della simulazione invece qua una volta sviluppato potremmo andare anche a selezionare un singolo poligono e a cambiare che ne so un aspetto o aggiustare qualcosa che dopo l'esportazione questo è il motore di rendering EV quello in real time e che più o meno se vediamo le impostazioni appunto sono qua qua ci sono un sacco di opzioni perché uno può andarsi a vedere per ottimizzare anche il risultato però di per sé abbiamo un render HD qua si imposta la scena e qua si seleziona rendering e in più cosa molto utile si può scegliere farlo funzionare con la CPU o la GPU se si ha un computer particolarmente da gaming o dotato di una scheda grafica esterna questo qua dovrebbe esserci ecco e quindi questo è il motore di rendering analogo però come si vede ha una qualità già un po' più simile ai videogiochi che a un programma CAD in questo caso le luci non sono state posizionate quindi non c'è da aspettarsi una qualità incredibile soprattutto sulla pelle come dicevo un'altra di quei materiali su cui normalmente il motore temporale difettano un pochino per cui per farli si possono fare abbastanza complesso e c'è la resa della pelle che ha questo effetto che si chiama subsurface scattering che definisce il fatto che la pelle quando quando osservata in controluce ha una leggera trasparenza come dire una traslucenza sulla superficie e poi l'altro aspetto sono gli occhi che insomma sono un po' un po' plasticosi in questo momento invece andrebbero trattati con la superficie umida e il fatto che sono trasparenti ma di consistenze diverse detto ciò questo è un risultato già abbastanza interessante invece con Cycles si ottiene un aspetto più simile a quello che stava ottenendo Sara dall'altra parte adesso sì adesso non ce la farà dovrebbe di me che solito eh ma perché guarda che Zoom è molto impegnativo Zoom sta evidentemente richiedendo abbastanza forse soprattutto nel momento in cui condivide lo schermo vediamo nel frattempo magari se c'è qualche domanda qualcuno che vuole intervenire sentitevi liberi o libere una domanda sì davrei ma questo avatar alla fine intanto in che formato l'avete importato poi la texture cioè tutta la tramatura i bottoni come li legge questo blender in questo caso è stato importato tutto insieme cos'è un FBX anche questo? sì un FBX quindi l'FBX essendo come dicevamo un formato apposta inventato per lo scambio tra software molto diversi si porta dietro i texturi i modelli e quindi ogni singola cosa è un modello statico poligonale quindi in realtà non abbiamo più avendo fatto questo passaggio la possibilità come faceva di rimassare di spostare una cosa cambiare un parametro e far ripartire la simulazione perché quella è come congelata possiamo però modificarlo come si può fare con la modellazione in generale quindi andando a prendere i punti i poligoni le linee e modificarle direttamente o con i chiaro chiaro quindi è un FBX tutti l'avete importato così ok grazie mi dicevi Matteo che c'era anche l'opzione di poter costruire gli abiti anche all'interno di Blender esiste anche dentro Blender una una forza di gravità definiamola così quindi che fa pesare le cose decisamente adesso spengo il rendering in GPU non ce la fa con tutto quanto insieme fatica comunque sì essendo fa parte delle funzioni di animazione Blender in realtà le conosco abbastanza perché poi è una delle cose che mi ha incuriosito all'inizio quando ho iniziato a giocare con Blender e una delle prime cose che ho fatto era la caduta di un fazzoletto o una cosa del genere perché abbiamo sia le simulazioni delle forze come dicevamo ma anche la possibilità di simulare appunto sia i tessuti che i liquidi di vario tipo anche gas o fuoco cose di questo tipo e quindi in realtà è abbastanza fine quella quel controllo che si ha con quelle simulazioni e potrebbe essere fatto direttamente come dici tu usando definendo la forma e la gravità ma anche andando più nel dettaglio possiamo vedere qua se io attivo il cloth posso stabilire anche intanto la qualità diversi aspetti riguardo a quanto è complesso il calcolo che viene eseguito ma anche le proprietà fisiche quindi a quanto è viscosa l'aria attraverso cui si muove quanto pesano i singoli vertici la stiffness questa parte è una delle più importanti in realtà perché sono quattro parametri che ti danno la forza con cui il tessuto si tiene insieme e quindi appunto quanto lo puoi estendere anche da un lato e dall'altra parte la forza con cui risponde quando cerchi di piegarlo bending e compression sono quelli che fanno sì chiaramente che l'effetto finale sia un tessuto di seta che scivola o un pezzo di cartone che un po' si piega ma in realtà resiste insieme a questo c'è la parte molto divertente quella della pressure poter gonfiare o dare più spessore alle cose e tutto l'aspetto che è molto utile ma bisogna dosarlo perché rende tutto sempre più comunque pesante e complesso le collisioni e le self collision che permettono di fare in modo che le grinze che venga verificato per ogni punto della stimolazione che il tessuto non passi attraverso se stesso in modi impossibili o che appunto siano realistiche le grinze anche quelle più fini questa parte qua c'è ovviamente anche in clou ed è tra virgolette c'è una user experience molto più semplificata quindi certo chiaramente il vantaggio ogni software cerca di avere il suo caso d'uso la cosa che posso dire però di questi parametri che chiaramente non i beginner a chiunque ti senti morito e che di solito i default fanno il loro lavoro quindi quando io schiaccio clou adesso questo è un cubo quindi probabilmente non ha senso fare la prova con questo ma se io facessi una simulazione di clou avendo solo cliccato attiva otterrà qualcosa una specie di cotone diciamo se voglio andare a avere l'effetto pelle bagnata che quando scivola posso farlo però se non mi serve andare così nel dettaglio non devo impazzire solo per fare una cosa semplice certo benissimo io direi che se qualcuno ha delle domande prima di chiudere la registrazione che poi andremo a condividere online su youtube potete farle adesso io vi volevo ringraziare è stata una bellissima bellissimo showcase di cose interessanti grazie mille figurati e grazie a te anzi rimani con noi così magari ci conosciamo un pochino meglio nella sessione subito dopo di chiacchiere lucia vuoi dire qualcosa a me si sta aprendo un altro mondo cioè Sara mi sta facendo venire diventare una drogata di 3d idem è ricorso ma divertente divertente allora io blender non l'ho ancora mai utilizzato avevo scaricato dei manuali ma non aveva ancora avuto il coraggio però è molto 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 interessante combinare le due poi assolutamente anche secondo me grazie mille davvero grazie mille ancora grazie veramente va bene grazie a voi ragazzi e rimaniamo un pochino collegati nel frattempo io farei la chiusura della nostra community live definiamola così che avrà poi non è proprio live però quasi niente ti ringrazio Matteo grazie a te sempre un piacere è stato divertente i nostri gruppi e e niente vi invito come sempre a rimanere aggiornati su quello che facciamo sia all'interno dei social di codice inutile e di Milano Live Coding esatto che è all'interno dei social e della della pagina delle pagine di WeMake che ci ospita gentilmente all'interno di questa piattaforma e quindi auguro a tutti una buona serata ciao ciao